Dell'Italia siete la vergogna. Ben ritrovati amici bianconeri, ma ben ritrovati amici del calcio, del Milan, della Roma, della Lazio, del Napoli. Bisogna svergognarli, perché loro oggi rappresentano questa, la falsità in persona, rappresentano la simulazione, un giocatore che viene inneggiato addirittura come il più forte al mondo. Ragazzi, questo fa ridere, questo qua è da radiare, uno che fa queste simulazioni è da radiare, sportività zero. Siamo qui, andremo a approfondire bene quello che è successo, perché ci sono anche degli striccioni fatti dalla curva nord dell'Inter per spotter la Juve, ma attenzione ragazzi, quegli striccioni sono tutti i reati che ha commesso l'Inter. Le andremo a vedere per bene, vi faccio vedere l'immagine, ve li zoomo per bene, le andremo a commentare, perché a parte la lautarata che ha fatto, perché poi vi faccio vedere anche un'altra immagine, praticamente Lautaro è il personaggio di un film bruttissimo. Ora, ragazzi, andiamoci con calma, intanto iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito, sono sempre qui per difendere la mia Juventus, ma io difendo anche il calcio da queste, lasciamo oscenità, chiamiamole oscenità, poi mi raccomando, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perdrete mai un video. E siamo sempre live in lesi, d'ingentemente madame e messiai, signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Allora, partiamo dal presupposto che la simulazione dell'autaro non ha niente a che vedere con la vittoria dell'Inter. Io voglio essere onesto, però devono essere onesti loro che un giocatore così va radiato, un giocatore così va praticamente allontanato dallo sport. L'autaro non può giocare a calcio, l'autaro deve assolutamente nuotare, che gli riesce bene in aria di rigore, tuffarsi perché gli riesce bene in aria di rigore, perciò lui deve cambiare sport. Oggi non è per il calcio, zero sportività l'autaro. C'è uno che fa un gesto del genere, ragazzi, vi faccio vedere questi fotogrammi che voi stesse capite, ma che razza di giocatore è? Ma guardatelo qui. C'è questo qua, cade per terra, guarda tutti, alza l'occhio, però cade per terra facendo il morto. Poi risuscita, si alza, cosa voleva? Che la Juve prendesse il rosso, l'autaro, devi solo vergognarti insieme a tutti quelli, che ti portano in cielo reputandoti un campione del mondo. Onestamente, secondo me, tu sei la vergogna dell'Argentina, perché l'Argentina non ha di questa tipologia di giocatore. L'Argentina ha saputo sempre giocatore con la garra, non giocatore tuffatore, giocatore tuffatore. Che bella frase che mi è uscita quando parlo di l'autaro mi vengono spontanee. Giocatore tuffatore come l'autaro. Ragazzi, io veramente non so cosa dire a questi interisti che stanno vincendo la seconda stella. La Juve, la seconda stella, l'ha vinta 40 anni fa, ragazzi, non state facendo niente di eccezionale. Quando la Juve ha conquistato la seconda stella, io ancora dovevo nascere. Io ancora dovevo nascere, ragazzi, ho già passato i 40 anni, li ho fatti proprio ieri. E allora cosa c'è da dire? Cosa c'è da commentare una vergogna del genere? C'è che la federazione deve mettere innanzitutto, per aiutare gli arbitri, togliere i simulatori. Dopo una simulazione del genere, poteva fare la FIGC, dargli la bellezza di dieci giornate di squalifica. Dirgli, tu non meriti di giocare a calcio, vai a giocare al tuffatore. Ah, proprio al truffatore, tuffatore, truffatore, tuffatore. Guarda, ragazzi, gioco di che, divento il mago delle parole, truffatore, giocatore, esce l'autaro e non è più un lavoratore. E' proprio onestamente, ragazzi, mi vengono così. Comunque, tralasciando questo qua, andiamo sulla curva nord. Striscioni. Guardate questi striscioni, ragazzi. Partiamo dal primo striscione. Esami falsati. Sappiamo tutti loro, sappiamo tutti loro, con la storia dei passaporti falsi, lasciamo stare gli esami che recobba di quello che ha combinato. Dirigenti irradiati. E' ovvio che i dirigenti nostri sono stati irradiati. I vostri sono stati prescritti. Di cosa parliamo? Di cosa parliamo se siete stati prescritti? Ma di cosa parliamo? Ragazzi, ultrasi non rispettati. Questa qua, onestamente, non è assolutamente colpa della Juventus e non lo possiamo mettere in dubbio. Plusvalenze inventate. Addirittura plusvalenze inventate. Quando sappiamo, allora, le plusvalenze che hanno fatto tra cavallo del 2015-2008, sappiamo tutti com'è finita con le plusvalenze. Lo sappiamo tutti. Hanno pagato un'irrisoria murta di, non so se era di 20 o 30 mila euro. Questo è per dire che la federazione li ha sempre aiutati. Poi si parla di mercati manipolati. Come? Vi ricordate Calciopoli? Che loro intercettavano le chiamate della Juve per rubare i giocatori, ragazzi? Veramente. Questi qua sono veramente imbazziti. Poi ne abbiamo un altro. Andiamo a leggere. Bilanci falsati. Ragazzi, avete un miliardo e 300 milioni di euro di debiti e parlate di bilanci falsati. Ma veramente, mandatevi a nascondere, andate. Poi qua, giocatori dopati. Giocatori dopati. Ma non vi vergognate, ragazzi. Ma non vi vergognate. Avete vinto due Champions con il caffè di Herrera spettacolare che vi dava la super forza di braccio di ferro. Inderisti, dovete solo stare muti. Siete la vergogna dell'Italia. Vi stanno portando in cielo con questo scudettino che forse, forse vincerete perché ancora non è detta l'ultima parola. La seconda stella di cartone. L'ho ripetuto già quando l'ha vinta la Juve. Ma cosa volete? Per nove anni siete stati in gatta buia. Per nove anni non siete usciti. Non siete usciti per nove anni. Vi siete nascosti. Vi siete nascosti. Impauriti. Che la Juve vi dava mazzate. Mazzate. Ma quanto mazzate vedete sta Juventus. E ora uscite fuori che vi sentite che è come se avete undici campioni del mondo. Ragazzi avete undici tuffatori. Undici falsari. Ebbene questa è l'Inder. Perciò non vi agitate tenderisti che oggi non avete vinto niente. E nella vostra storia falsità, tribunali e trofei di cartone. E ho chiuso questo. E ho chiuso tutto. Che d'accordo col mio video lo condivida a tutti amici bianconeri. A tutti. Like, commento. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Sono sempre qui per difendere la mia Juventus. Interista, chiacchierone. Sogni sotto l'ombrellone. Fino alla fine forza Juventus. Io mi ne va io. O sabine che a tutti i vicciotti. Ciao.